Primarie, la parola un po' temuta e un po' sperata tra le varie anime del centro-sinistra toscano, comincia a circolare per arrivare a individuare il nome del candidato governatore alle regionali della prossima primavera. Perché i 18 partiti e movimenti che hanno partecipato alla riunione di ieri del tavolo di coalizione tenutasi a Firenze non si sono accontentati del nome di Eugenio Gianni, proposto dal PD. E nel valse delle ipotesi si sono così aggiunti i nomi dell'ex ministro Rosi Bindi e dell'ex ministro Maria Chiara Carrozza, proposte avanzate rispettivamente da Europa Verde Toscana e da Sinistra Italiana, certamente entrambe non gradite a Italia Viva. La soluzione di una candidatura unitaria, hanno spiegato in una nota i 18 partiti o associazioni o movimenti partecipanti, resta all'obiettivo principale, ma è contemporaneamente emersa, la disponibilità anche ad effettuare, se necessario, primarie di coalizione. La prossima riunione del tavolo in cui si potrebbe decidere se puntare su un candidato unitario o indire primarie di coalizione si dovrebbe tenere il 20 dicembre. Intanto il sindaco Dario Nardella ha già espresso il suo chiaro e netto no a primarie, ha detto che sarebbero assolutamente dannose. Insomma, le condizioni per complicarsi la vita dentro il centro-sinistra toscano ci sono tutte. Giova in questo senso riassumere il quadro dei 18 partecipanti alla riunione, alla luce dello spacchettamento delle rappresentanze di Sinistra Italiana, articolo 1, 2020 a sinistra, oltre che dell'ingresso di Toscana e Nazione, ramo regionale del movimento lanciato da Carlo Calenda e di Toscana al centro, movimento capitanato da Massimo Pieri, in passato consigliere comunale di Forza Italia a Firenze, poi sostenitore nel 2014 della candidatura di Dario Nardella al sindaco. E chissà se di qui al 20 dicembre questi gruppi, movimenti, partiti o associazioni cresceranno ancora.